Patrizio Lussana, direttore di organizzazione della settimana internazionale Coppie Bartali, oggi giunta al Giro di Boa, come sta andando? Sì, oggi è la quarta tappa, le prime tre sono andate via direi bene, quindi stiamo lavorando bene, il tempo ci assiste. Oggi siamo qui a Brisighella, sicuramente sarà una tappa importante oggi, probabilmente una delle più dure del Giro e vediamo cosa succede. Adriano Amici, anima del GES Emilia, è un onore per te essere un collaboratore. Sì, io sono rimasto lontano tre anni e da quest'anno sono rientrato, abbiamo poi questo nuovo progetto che abbiamo acquistato su Bergamo, le macchine che erano di Amici, le abbiamo acquistate noi con la Pro Cycling Support, abbiamo creato questa nuova società per gestire le gare ciclistiche a seguito con le nostre macchine e siamo qui naturalmente presenti alle gare di Adriano Amici, non solo a queste ma a quelle Giro dell'Emilia e Pantani che farà. E niente, qui però io sono assieme a Claudio Mologni e a Fosco e a Pisani, siamo i quattro direttori di gara per quanto riguarda tutta la coppia Bartali, siamo io e Claudio davanti, Pisani dietro e davanti e davanti abbiamo il Fosco che ci fa un po' tutto quello che sta succedendo avanti a noi dieci chilometri in modo che arriviamo preparati. Per oggi diciamo che stiamo andando via bene, abbastanza bene. Grazie. Grazie.